Ricostruire la filmografia di Fiorenzo è difficile quanto ricostruire la filmografia di Orson Welles, cioè ogni volta che io andavo a Sassari lui cambiava la sua filmografia perché si ricordava di aver fatto quest'altra cosa e ancora oggi siamo alle prese con un lavoro di filologia, tutto da fare su molti materiali.